Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Ezio Greggio fuori da Striscia la notizia e Mediaset. Ma la notizia sarà vera? Vogliamo porre fine alle dicerie. Lo scorso luglio tramite i listini di Publitalia abbiamo scoperto che i quattro conduttori della nuova edizione di Striscia la notizia saranno Nino Frassica con Michel Unziker, poi Sergio Friscia e Roberto Lipari. La notizia è stata confermata questa settimana da Dagospia, che ha sottolineato come mancherà uno dei volti storici del TG satirico ideato da Antonio Ricci, Flash. Ma che notizia? Nino Frassica affiancherà Michel Unziker nella prossima stagione di Striscia la notizia. Non ci sarà invece Ezio Greggio. È un primo passo verso il rinnovamento voluto da Antonio Ricci e di cui aveva parlato Pier Silvio Berlusconi. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, punto ma davvero il volto storico di Striscia la notizia non tornerà dietro al bancone più famoso di Canale 5? Diverse testate in questi giorni hanno parlato di l'uscita dal programma, non rinnovo e qualcuno ha anche detto che non tornerà. Ma le cose non stanno proprio così. Sull'argomento è intervenuto anche il comico. Un utente ha chiesto, ma è vero che te ne vai via da Mediaset oppure no? Il settantenne ha risposto smettendo i rumor circolati in questi giorni, sì, però me ne vado tra 50 anni, punto intanto la nuova edizione di Striscia la notizia tornerà in onda a partire dal 23 settembre, punto. Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24. Grazie a tutti.